Lo scandalo dei mutui, l'aria di sospetti e velini che ammorba il paese, Brolo vive uno dei momenti più bui della sua storia. Non c'è molta voglia di fare festa e così l'Associazione Carristi ha deciso di non organizzare l'edizione 2014 del Carnevale. Una decisione, scrive il sodalizio brolese, che scaturisce dalla consapevolezza delle difficoltà che il nostro paese si trova ad affrontare. Da parte nostra non vuole sembrare però un atteggiamento arrendevole, ma l'espressione di un nostro reale disagio economico che si è aggravato nel tempo. Siamo fiduciosi, afferma ancora l'Associazione Carristi, di trovare sostegno e instaurare un dialogo con imprese e attività commerciali per rilanciare nel prossimo futuro un'antica manifestazione apprezzata da tutto l'Interland e che negli anni è stata oltre a un momento di aggregazione sociale anche una fonte economica per tutto il paese. I problemi economici, le difficoltà dell'intera comunità brolese hanno portato alla decisione drastica, ma c'è chi vuole salvare il salvabile, c'è chi vuole dedicare un momento di svago ai più piccoli e più sfortunati. Così l'Associazione 360, guidata da Valentino Scaffidi, si è fatta avanti e vuol chiedere al commissario Musolino l'utilizzo del palatenda di Piazza Annunziatella per organizzare, senza gravare sulle casse comunali, almeno due giornate dedicate ai più piccoli, con particolare attenzione rivolta anche per i giovani diversamente abili. È un modo per coinvolgere, unire, aggregare, scrive Scaffidi e per questo confidiamo nella partecipazione di tutti, a partire dalle scuole, di chi vuole dare il suo contributo, dei commercianti e della gente che non deve pagare lo scotto della crisi amministrativa. Brolo ha già voglia di rialzarsi.